Anche quest'anno, operazione che abbiamo iniziato l'anno scorso, abbiamo impostato il rilievo topografico dell'annuale campagna dello scavo delle colombare anche per fare della formazione in ambito di rilievo topografico. Tutti i rilievi topografici della scorsa campagna e di questa campagna sono portati avanti da ormai studenti senior del nostro gruppo che si occupano di tutte le fasi. La fase è legata alla materializzazione dei punti di riferimento, dei punti d'aggancio di rilievo sullo scavo attraverso uno strumento di rilevazione topografica come la stazione totale e poi l'acquisizione di centinaia di foto con una normale fotocamera digitale. Vengono poi trasformate in modelli digitali tridimensionali all'interno di appositi software dedicati. Vengono poi trasformati in piante, disegnati in ambiente digitale, in un ambiente definito Geographic Informative System, quindi un sistema informativo geografico e ci permettono quindi poi di gestire tutta la nostra documentazione attraverso i normali output che sono quelli appunto delle piante, piante arricchite da fotografie ma arricchite anche da altre informazioni topografiche.